Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi è ferragosto Partiamo sempre dal presupposto che vi avevo detto Così che comunque i bambini ci sono e bisogna andare avanti Qui c'è papà sul cuscino Adesso praticamente, quella lì è sempre la roba a stirare Sto mettendo a posto sul divano Perché in questi ultimi giorni non sono stata tanto in casa E quindi ora asciugava Cercavo di tenere in ordine Ma con i bambini è sempre una tragedia Quindi adesso metto a posto qua Intanto Maurizio sta montando al barbecue E i bambini stanno sistemando e pulendo fuori E Manuel e Giorgia stanno facendo colazione Perché si sono svegliati da poco Io ho già fatto colazione Vi lascio qui la foto della mia colazione lì stamattina E stamattina ho già fatto anche lo zoom con Bibi Avevamo un ospite speciale che ci ha dato un po' di motivazione Insomma c'è una ragazza che ha 12 anni che fa questo lavoro E ci ha un pochettino detto come ci dobbiamo comportare Cosa dobbiamo fare eccetera eccetera Come farlo anche E niente quindi adesso io vado avanti a mettere in ordine Poi dopo vi farò vedere quando accendiamo il bambino E così cosa E niente I cani sono qui Fa caldo È una giornata di sole E poi Tra lavori normali e un po' di carne alla braccia Vediamo di passare la giornata un po' diversamente Insomma comunque Maurizio è a casa oggi A casa anche domani per farci anche domenica E quindi niente Volevo portarvi con noi per farvi vedere quello che facevamo oggi Adesso vado a finire di mettere in ordine Ciao Delvista Torso Mirale Ecco Di Le E allora quella lì è la roba da portare giù che è quella diciamo invernale questa è la roba che si devono andare a mettere a posto quella è pia che non può passare perché vuole andare fuori e qua invece c'è la roba da stirare oggi dopo pranzo andrò a fare questo andrà a stirare un po no 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 Ehi, ehi. Massica bene. Allora, la tavola è pronta. Questo piatto è da buttare. Qui abbiamo preparato l'olio per le bracciole. Qui c'è la maionese. Qua ho preparato quattro patate da fare al cartoccio. Adesso Manuel le porta a Maurizio. Qua ci sono i biostel già pronti. E qua c'è la salsa barbecue. Bicchieri alla fine ho messo questi perché è così. E niente, l'acqua era in freezer così si rinfresca per bene. E adesso c'è sulla salsiccia. E aspettiamo loro poi per iniziare a mangiare. Ricordo la sua nata là. No, no. Mamma, sono i suoi dati da superfirmatrice. Vai, svegli. Ehi. Ehi, ti vuole la carne? Eccomi qui. Allora, un piccolo aggiornamento. Sono le... Adesso ve lo dico. Aspettate che adesso ve lo dico. Manuel, che sono? 7.50. 7.50? Sono quasi le 8.00. Dopo pranzo abbiamo portato a dormire Pia e Maurizio. Maurizio si è riposato un po' perché comunque sta ancora tutta la settimana e dalle settimane passate. Non ho stirato. Abbiamo fatto merende. I bambini ci sono fatti un bel frullato con la banana e il latte. E poi sono andati verso le 5.00. Così sono andati giù a giocare con un bambino che abita qui vicino, nel palazzo vicino. E... E' bombato. Adesso è ora che vengono su. Si fanno le docce. E... E' bombato. Volevo parlarvi oggi, praticamente, non è che non ho fatto niente. Intanto che Pia, facevo dormire Pia, ho preparato le nuove intro per i video. Da domani, praticamente, tutti i video che vedrete, cioè non da domani, da lunedì, perché domani è domenica. Quindi uscirà, vabbè, per voi sarà già uscito il video del fiume. E quindi quello lì rimane con l'intro vecchia. E... Mentre invece, da lunedì, che entreranno, che i video che usciranno, usciranno con le intro nuove. Ho preparato intro diverse per i vari argomenti. Me ne manca ancora una, sicuramente. E... E niente, spero che vi piacciono. E niente, spero che vi piacciono. E adesso devo anche preparare, volevo preparare delle copertine per i video. E volevo farle... Cioè, volevo scegliere dei colori. Sei morto di nuovo? Maurizio sta giocando a Neo. Due? Sì, ma questo pezzo cancello, grazie. Perché? Non posso dire che stai giocando a Neo. Ma che stai uccidendo a nessuno? Sì, in realtà i mostri del gioco stai. No, e ne ho due? Sì. Ah, ok. E... Penso di scegliere un colore per ogni... Quindi, quando vedrete i bordi della copertina, magari verdi, è perché saranno, non so, i mukbang. Mentre, quando vedrete i bordi della copertina rossi, saranno per i vlogmas, per dire, no? Quindi adesso vediamo un po'. Devo trovare, vediamo come mi gira quelli lì. Li preparo man mano che preparerò le copertine che dovranno uscire. E... Niente, stasera mangeremo qualcosa così. E... La bambina è caduta. Ma si è tirata su. È arrivata Sabrina. E... E niente, quindi adesso vado a vedere di prepararla a cena. E... Ci vediamo più tardi. E... Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì.